Ciao, benvenuto a questo nuovo post ancora dedicato al concetto legato ai tre verbi, essere, avere e fare. In questo nuovo post ho intenzione di sviluppare meglio il concetto del fare. In particolare, prima di enunciare questo discorso, ho necessità di approfondire il concetto di visione consapevole, visione cosciente. Quante volte noi ci siamo fatti una domanda circa la nostra identità, circa il nostro senso della vita e perché ci siamo in questo mondo e non abbiamo trovato immediatamente una risposta, ma abbiamo trovato una risposta frammentata, tanti pezzi di risposta sparsi nel nostro spazio, spazio psichico intendo. Quindi in questa spazialità psichica noi cerchiamo dei pezzi, delle componenti che fanno parte della nostra coscienza. L'essere profondo ha necessità di portare luce all'interno della propria coscienza per conoscersi e quindi deve fare necessariamente queste esperienze nel mondo virtuale. Ma la cosa interessante è che la visione cosciente si ha quando noi vediamo che a quella domanda troviamo dei pezzi di risposta. E tanto più troviamo delle risposte, tanto più ci rendiamo conto che la domanda iniziale era inutile, in quanto avevamo avuto la risposta sempre sotto gli occhi, ma non la vedevamo. Quindi la cosa interessante è capire che ogni volta che ci si approccia ad una nuova consapevolezza nata appunto da questa esperienza che fa l'essere profondo nella realtà virtuale, ci si allarga la visione e il fatto di essere coscienti e consapevoli di quello che si sta guardando e di aver capito che era sempre stato sotto i nostri occhi è fondamentale, perché in quel modo l'esperienza che vive l'essere profondo è esattamente l'esperienza che vuole vivere. È l'esperienza coscienziale che gli ha portato ad esplorare una parte di sé e a comprendere una parte di sé così profonda e a portare luce laddove non c'è stato. Quindi il nostro percorso esistenziale è quello essenzialmente di portare luce nelle zone d'ombra del nostro spazio psichico, della nostra interiorità affinché possiamo vedere poi in questa realtà virtuale proiettata questa nuova scoperta e in qualcosa di concreto. Tutto ciò che viene proiettato nella realtà virtuale è essenzialmente corrispondente a un bisogno che è il nostro essere di sperimentarsi e di conoscersi. Partendo da questo presupposto però, qual è la mia necessità in questo post? La mia esigenza esplorativa che io esercito quando faccio appunto un post e quando mi metto a confronto con me stessa è quella di capire in che cosa può consistere il fare, perché nel mondo virtuale, nel mondo del divenire, appunto proprio perché si parla di divenire, di mutevolezza, parliamo anche di movimento. Quindi molte volte noi identifichiamo l'azione con il movimento e quindi associamo il fare, il fare esperienziale appunto al movimento. Noi ci muoviamo in questo spazio virtuale e facciamo delle attività che ci permettono la comprensione, ma ci sono dei casi in cui noi non effettuiamo un'esperienza vera e propria del movimento, ma un'esperienza prettamente emotiva. Allora a questo punto dobbiamo intenderci bene sul concetto di fare, perché un'esperienza emotiva che non coinvolge il movimento, l'azione fisica, lo spostamento della propria materialità poi può essere dal punto di vista esperienziare veramente formidabile, perché tutto ciò che ci muove e che ci anima è essenzialmente emotivo, per cui noi proiettiamo l'essere profondo all'interno della nostra virtualità anche attraverso l'emotività. Emotivo significa proprio un movimento, quindi anche il fatto che non ci si possa muovere, il fatto che ci si rifletta su se stessi, osservando le proprie emozioni, scoprendo parti di sé che non venivano fuori, proprio perché non c'era l'osservazione della propria emotività, che non riusciva a fluire. Tutte le volte che noi guardiamo noi stessi, ci sperimentiamo, abbiamo il coraggio di guardare fino in fondo le nostre emozioni e ci vediamo fluire in questa realtà, noi alla fine di questo percorso fluido in cui l'emotività esce completamente e non viene osservata con giudizio, ma viene osservata con l'intenzione dello sperimentatore che ricerca in sé stessi una chiave di comprensione. Perché solo guardare? Perché nel momento in cui si vive l'emozione, l'abbiamo già visto in post precedenti, si è presi, si è travolti. La parte nostra maschile, cioè quella che cerca di tenere il controllo razionale della situazione, di veicolare in un certo modo questa emotività, cerca sempre in qualche modo di reprimere questa emozione, ma l'emozione nel momento in cui si produce ha necessità di svolgersi, perché l'emozione viene dalla parte femminile dell'uomo, cioè viene dalla parte cosiddetta inconscia. Il nostro sacco inconscio, il nostro mondo inconscio contiene tutte queste forze energetiche che chiaramente nel momento in cui vengono esplicate all'interno e manifestate all'interno della realtà virtuale, immediatamente la nostra parte maschile, perché il nostro cervello effettivamente dal lettore di queste informazioni, divide le informazioni, cerca sempre di dare una forma a questa emozione che nonostante tutto fluisce. E lì abbiamo tutti i detti possibili, l'amore cieco, la rabbia incontenibile. Se deve fluire, deve fluire l'emozione. Se si reprime questa emozione, state ben certi che si andrà ad inserire, a manifestare nella materia in modi diversi. Perché in qualche modo il nostro essere profondo, che si esprime attraverso l'emotività e quindi cerca di manifestarla in questa realtà virtuale, perché l'emotività è una forza energetica infinita, l'emotività deve scorrere. Allora la cosa fondamentale è essere coscienti di questo processo e di questa voce interiore che ha necessità di fare esperienza, perché il nostro essere profondo ha voluto manifestarsi attraverso quella emozione. È chiaro che una volta che ci si rende conto che con il fluire di questa emotività si può comprendere il vero significato di chi si è, ci si rende conto che la causa, la motivazione di quella emotività e l'effetto che ha prodotto sulla materia quella emotività sono esattamente la stessa cosa, perché è un'esigenza da parte della nostra anima di manifestarsi e quindi la causa e l'effetto si toccano nello stesso identico punto, perché l'obiettivo è appunto il fare. Cercare di frenare o cercare di bloccare, come chiaramente fa la nostra parte conscia, ha i suoi vantaggi da un certo punto di vista, ma è il punto di vista sociale, ma non è il punto di vista della comprensione di se stessi. A questo punto è chiaro che tutto questo discorso confluisce in un concetto ancora più ampio, sempre legato alla consapevolezza di sé e quindi all'essere coscienti nelle azioni che si fanno, essere coscienti, consapevoli e comprensivi, si introduce un altro concetto fondamentale, che è appunto il concetto di libertà, che affronterò nei prossimi post. Ciao, al prossimo post! Ciao ciao!